Se sei un genitore e magari come me hai un figlio adolescente potrebbe essere che tu sia un po' preoccupato del benessere psico emotivo dei ragazzi di oggi. In effetti i dati sono piuttosto allarmanti e si nota negli ultimi anni una vera e propria impennata in tutta una serie di problematiche psicologiche più o meno gravi. Diciamo che l'impressione che si ha è di una generazione senza punti di riferimento che fa fatica a capire il proprio ruolo nella vita e di una generazione forse come poche altre colpita da una scarsa autostima, da una forse mancanza anche di sufficienti esperienze vere dovuto anche al fatto che molto della vita di questi ragazzi si svolge in un mondo completamente virtuale. Quindi io credo che sia un punto molto importante per noi genitori quello di riflettere su cosa possiamo fare meglio per aiutare questi ragazzi a costruirsi l'autostima che serve, la struttura interiore che serve per affrontare le sfide della vita in un mondo che sicuramente non non è diventato più facile ma che è l'unico mondo che questi ragazzi avranno. Quindi questa è l'epoca in cui si trovano a vivere e dovranno affrontare i problemi, le difficoltà, le complessità di quest'epoca. Ma come per qualsiasi altra epoca storica alla fine quello che hai dentro, la tua forza interiore, la tua autostima, i tuoi valori, sono le cose che ti permettono e hanno permesso a tante generazioni precedenti di affrontare momenti storici estremamente difficili. Quindi io credo che noi come genitori abbiamo una responsabilità importante. È troppo comodo per noi genitori dire ma sarà l'epoca, ma sono tutti ragazzi viziati, come se noi non avessimo un ruolo in tutto questo, come se la loro struttura interiore non dipendesse in larghissima misura da come siamo stati noi come genitori. Ora io non voglio accusare nessuno, non è il mio compito e nemmeno la mia modalità di agire, però responsabilizzarsi sì, perché avere dei figli è un grande dono, un grande privilegio, una grande fortuna, ma allo stesso tempo è anche una grande responsabilità a cui non possiamo scappare trovando delle scuse. In buona sostanza la condizione dei ragazzi di oggi è fortemente connessa alla modalità con cui noi abbiamo agito come genitori, alle nostre distrazioni, alle nostre mancanze, alla nostra distanza, al nostro essere occupati su altro, alla nostra stanchezza perché troppo impegnati nell'ambito professionale lavorativo. Insomma le ragioni possono essere molte, alcune sono anche comprensibili, altre francamente meno, ma il tema vero è cosa possiamo fare per migliorare la situazione. Ecco io credo che un genitore dovrebbe comportarsi un pochino di più come un coach, quindi dovrebbe rimanere una persona curiosa e una persona anche disposta a mettersi in discussione per migliorarsi. Sulla base della mia esperienza personale mi viene da dare tre consigli per aiutare i ragazzi, i figli, i giovani a sviluppare una maggiore autostima che è forse la cosa più importante che devono avere per poter davvero poi costruirsi una vita che gli piace, che possa essere appagante. Il primo punto è che bisogna far fare esperienza a questi ragazzi e noi genitori di oggi siamo diventati tutti troppo protettivi per quello che riguarda il mondo reale e troppo invece distratti per quello che accade nel mondo virtuale. Quindi abbiamo eliminato in qualche modo tantissime opportunità di esperienza perché le abbiamo giudicate pericolose, rischiose, quindi non fare questo, non fare quest'altro, stai attento a questo, stai attento a quest'altro ed è logico anche che sia così, però allo stesso tempo la vita è fatta di questi rischi ed è quella vita reale con cui poi si devono confrontare e quindi se siamo troppo protettivi e impediamo loro di farsi un po' le ossa nella vita reale, anche ogni tanto cadendo, anche sbucciandosi le ginocchia in maniera metaforica o reale, anche trovando le loro soluzioni alle problematiche che affrontano, ecco che non avranno modo di allenare la loro autostima. Se questo in parallelo poi si accompagna invece ad una totale nostra assenza e completa distrazione su cosa i giovani fanno nel mondo virtuale, queste due cose chiaramente non funzionano bene insieme. Il secondo punto è lasciare che i ragazzi, i bambini, i giovani si annoino, perché l'altro versante di noi genitori moderni è quello che da un lato siamo sempre impegnati, sempre distratti, dall'altro siamo terrorizzati che i ragazzi si annoino e quindi gli diamo cose da fare, gli proponiamo costantemente soluzioni, cose che li divertono, giochi, qualsiasi forma di intrattenimento. In realtà annoiarsi è importantissimo perché sviluppa la creatività, fa sì che i ragazzi davanti all'ipotesi di annoiarsi debbano domandarsi cosa posso fare per uscire da questo stato di noia, quindi non dovremmo avere troppo timore sul tema della noia, dovremmo lasciare che la sperimentino anche perché se gli lasciamo sperimentare la noia ci accorgeremo che sono bravissime ad uscirne in maniera molto rapida. Terzo punto anche molto importante è provare a insegnare un po' meno con le parole e un po' di più con il semplice esempio. I ragazzi giovani assorbono da noi i comportamenti e percepiscono immediatamente le contraddizioni tra ciò che noi diciamo, tra ciò che noi vorremmo che loro facessero e quello che invece siamo in grado di fare noi. Quindi ricordiamoci che ogni nostro gesto, ogni nostra manifestazione è un esempio che loro assorbono come insegnamento molto di più di qualsiasi insegnamento teorico fatto diciamo a tavolino. Quindi come tu rispondi, come tu reagisci, come tu vivi, le abitudini che adotti, i valori che manifesti sono fondamentali perché è da lì che i nostri ragazzi strutturano la loro realtà interiore e non dalle lezioni che ci prefiggiamo di dare loro.